Ciao a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Eccoci qui con The Last of Us e riprendiamo subito da dove c'eravamo interrotti. Ho parlato con la squadra del lato est. Non hanno visto un cazzo. Eccoli. E Market Street? Sì, stanno passando di lì proprio ora. Magari li faranno uscire. Vero proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno fortunato. Sì, qui sono tutti sopra sti tizi. Sì, sì, visto, visto. Ci hanno messo pure un po' di... un po' di trappole a questi simpaticoni. Sì, ho visto. Stai giù. Cioè, facciamo da qui? Hai visto? Porca! Forse non ha fatto in tempo a dare l'allarme. Forse. Proviamo a vedere se da qui... Riusciamo a beccare l'altro, va? Non viene qua, vero? Ok. Stai tranquilla, Ellie. Ah, ce n'è un altro lì. Giù, 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 giù. Stai giù, Ellie? Ecco, ce ne sono altri, giù. Eccoli. Tu Ellie copri, eh? Mi raccomando che qua... Allora. Diamo un'occhiata brevissima qua. Attacco la folla. Va bene. Ehm... L'importante è che non salgano subito qua. E vediamo se... Non riusciamo a beccarli di qua, però. Ah, lì ce n'è qualcuno. Vediamo che cosa riusciamo a fare da qui... Con Joel, l'arciere. Forse ci dobbiamo avvicinare perché siamo troppo lontani, ma... No, direi di no. Possiamo scendere per adesso. Ah, lì c'è qualcosa? Sì. Dai, riscendiamo di qua. La mazza direi di no. Non so se arriva fino qua. Sì. No, che fa torno indietro? Sì. Allora, attenzione. Vediamo. Non abbiamo proprio un'ottima copertura, ma... No. Hai trovato qualcosa? No. Ci sei? No, dai, Joel. Forse abbiamo finito. Ah, peccato. E qua vediamo un po', c'erano un po' di trappole. Però forse ci sono degli oggetti interessanti. Questa non riusciamo a recuperarla, no? Sì, siamo... Sì, siamo al massimo. Va bene. Dai, allora, stando attenti, andiamocene pure via. Controlliamo magari questo... Negozio di qua. Ah, no, è chiuso. Niente. Però forse... Possiamo andare di qua. Vediamo solo Ellie che... Ah. Gesù. Ora capisco che è successo in questa zona. Ogni battaglia ha le sue vittime. Magari hanno una famiglia. Tutti ne hanno una. Meglio non pensarci. Come faccio a non pensarci? Allora, Ellie, aspetta solo un attimo che qua forse c'è qualcosa che ci può essere utile. Controlliamo un po' prima di lasciare la zona. Qua niente. Sì, qui sì. Bene. Attenzione, anche qui c'è qualcosa. Non possiamo creare altro. Siamo a postissimo. Anche qua. Prendiamo questa porta. Eh sì, direi che conviene, comunque. Va bene. Perfetto. Qua sotto. Siamo stati... Troppo attenti e abbiamo consumato poche munizioni, quindi qui... E' tutta roba in più. Forse possiamo creare un altro coltello. E non ci serve altro. Ah sì, adesso possiamo recuperare qualcosa. Va bene. Andiamo ancora di qua. Sì. Sì. Perfetto. Ok. Alla via. Sì. Sì. qui. Vieni, è lì. Ok. Fai. Eccolo. Eccolo. Va bene. Ci siamo quasi Grande Ellie è già giù Non c'è niente Sono stata in un posto così Nella ZQ di Boston Scuola di preparazioni militare Sì, è un modo carino di dire il panoprofio Chissà che è successo a tutti questi ragazzi Questo posto è deserto da un bel po' Non ci sono più ragazzi Il che significa che o sono cacciatori che vogliono ucciderci o sono morti O se ne sono andati Ma tu non ci credi, vero? Credo solo nel lasciare questa città, dai Sì, Joel è sempre per le maniere un po' più spicce Eccone un altro Manifesti ovunque L'ho visto poco prima dell'epidemia Davvero? Alla fine lui la sventra? Nessuno viene sventrato È un filmetto per ragazzini Chi ti ha trascinato a vederlo? Non lo so Concentrati, ok? Va bene Allora, se qui non c'è nulla Possiamo Andare avanti Magari Di qua Passiamo dal piccolo Vai Vai E' tutto ok Solo giù la testa Senti E anche per sogno Dieci Continua Non lo so, venti Prova con venticinque Prozzi Te lo giuro Hai venticinque barattoli di bestia Beh, ventiquattro Ne ho appena finito l'uno E come hai ventiquattro? Erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel Io Ruben l'abbiamo trovato per caso E ce lo siamo diviso a metà Quella roba è ancora buona Quando ne farai ancora? Perché? Secondo te? Ne voglio un po' Sì, lo immagino Settimana scorsa ti ha salvato dal clicker Ci penserò su Avrei dovuto lasciarti crepare Ah, Cristo Te ne farò un po' se smetti Ah, li volevo beccare tutte e due Artiglieria militare Resta al riparo Allora No, ce l'abbiamo anche noi La La mazza Ecco, adesso C'è un po' un problemino a passare Vediamo se Dobbiamo andare Dall'altro lato Via Via Ok E' lì Oh Oh Qua proprio Bisogna restare sempre bassi Andiamo qua nell'ufficio Perfetto Qui siamo a postissimo Si direi che abbiamo fatto il giro Non ci da tregua No Eh si Non c'era una bottiglia Adesso ci siamo messi in una situazione poco Eccoli Poco felice Vorrei cercare di Evitare di usare munizioni Via Bene Ok Ellie Qui almeno siamo al coperto Forza Non siamo in compagnia Che qua Siamo a posto Vediamo solo se C'è qualche oggetto No Nulla 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 Forse non ci vede da qua Vediamo se c'è qualcosina di qua Perfetto Perfetto Bene Dobbiamo Continuare Ellie Bene Via Via Cazzo Cazzo Cigliati Joel Joel Fermati Guarda Lascialo stare Calma Stiamo calmi Tutto ok Non sono i cattivi Giù la pistola Amico picchi forte Stavo cercando di ucciderti Già anch'io credevo che fossi uno di loro Poi ho visto te Non l'avessi notato non girano con i ragazzini Sopravvive il più forte Perdi sangue Non è niente Mi chiamo Henry E lui è Sam Se ho capito bene tu sei Joel Ellie In quanti siete? Sono tutti morti Ehi Non lo sappiamo Eravamo un bel po' Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata E ci hanno dispersi Stiamo cercando di uscire da questa merda Possiamo darci una mano? Ellie La roba tipo all'unione fa la forza Ha ragione Potremmo darci una mano C'è un nascondiglio non lontano da qui Meglio continuare a parlare lì Ok Faccio strada Seguitemi Va bene Per ora Intanto noi controlliamo Se ci hanno lasciato qualcosa Eh niente male Va al televisore Molotov potenziate Finalmente Bene Possiamo uscire anche noi Facciamo attenzione Siamo vicini a uno dei loro posti di guardia Solo tu e tua figlia Non è mio padre Siamo più come dire Ho promesso che mi sarei preso cura di lei Beh È una bella cosa Aspettate un attimo eh Che qua Possiamo fare qualcosa ancora Eh infatti Qui Sono cose utili Ellie Fumetto Ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo Bene Perfetto Beh direi che qui Eh non possiamo giocare a scacchi Questo è un po' più grosso come televisore Però Beh direi che Abbiamo preso tutto il possibile Oh Negozio di giocattoli Aspettate Fate silenzio Via dalle finestre Andate Merda Quel cazzo di camion Ci tallona da quando siamo arrivati in questo Sam Cosa fai? Niente Lascialo lì Il mio zaino è praticamente vuoto La regola sulle cose da prendere Non pesa niente La regola Qual è? Prendiamo solo il necessario Esatto Ora andiamo Quanto è lontano questo posto Ci siamo quasi Manca poco Qui c'era qualcosa però Scusa Ellie Cos'hai trovato? Niente Chiunque ci fosse quassù Se n'è andato da un bel po' Aia Dove sono gli altri? Volevano fare un altro video E qui facciamo però Controlliamo se c'è altro Hai visto? Cosa che c'è? Ti ho preso Ah cazzo Ce l'abbiamo fatta Non male veterano Eh direi Rapido e indolore Tagliamo sul canno Sì Questo ci fa Decisamente Comodo Se non c'è altro di qua Possiamo andare avanti Però Sì 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 Grande Joel Aia Eh mi scoccia un po' Usare l'arco Però così No ma non l'ho Non l'ho shottato Ok Ok La testa non dovrebbe più esserci Vediamo se ci ha lasciato qualcosa No Da questa parte Ci siamo? Sicuro? Sono così vicini Direi sono lungo da vedere la chiave E dove l'hai presa Ah Attenzione Va bene Direi che qui Non c'è nulla Bene Ah qui c'è qualcosa La prova Sì Siamo in un Eccoci In uno studio Per geometri Qua Va bene Direi che ci siamo Va bene Ragazzi Allora io mi fermo qui Con questo video E vi do appuntamento Con il prossimo Ciao a tutti